Vittorio, Spano 1-0-0 abbiamo detto con i tuoi compagni importante perché da un punto contro una diretta concorrente oggi difese protagonista e tu hai svolto magistralmente il tuo compito sempre in anticipo, sempre bene sui giocatori avversari Sì, abbiamo fatto una buona partita, era una partita molto difficile dove in difesa dovevamo proprio tenere duro è andata bene dai, nel proseguo della stagione questo punto è molto importante Avete fatto voi la gara, si può dire, con Elsa Massi che ha creato le sue occasioni, soprattutto di rimessa però adesso ti chiedo cos'è successo nell'occasione del calcio d'angolo in cui ci ha dovuto mettere una pezza a Torre Pina C'è stato un po' di mischione, è passata la palla al centro e Torre da gran portiera ha fatto un miracolo Perché voi lavorate molto sui calci da fermo, il mister ci tiene moltissimo quindi ogni volta che anche in allenamento che succede che vi fanno gol vi urla dietro quindi anche in quell'occasione immagino che si sia dirato molto Sì, ha detto di stare molto attenti, purtroppo la palla è passata e meno male che c'è lui tra i pali Abbiamo detto un punto importante, ora bisogna tornare in casa e guadagnarsi ancora ulteriormente questo posto nei playoff Sì, ora la partita col Valedoria in casa è molto importantissima, non possiamo sbagliarla e speriamo bene per il campionato Grazie Vittorio Grazie